Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo una recensione su un'elaborazione che andremo a fare di questo modello, il fucile di un cliente che ce l'ha portato da elaborare, andremo a fare un'elaborazione high speed, mantenendo comunque una batteria da 7,4, il modello è l'XCR Robinson Arm della VFC, l'ha sgranato purtroppo e quindi voleva ottenere un risultato ancora migliore rispetto a quello che è il fucile già da originale. Quindi passiamo immediatamente alla nostra officina che si trova di là, vi facciamo vedere che cosa montiamo, come si smonta il fucile e ovviamente i test finali. Partiamo col farvi vedere che cosa andremo a montare. Allora andremo a montare un test a pistone antivuoto in polimero con la parte interna in alluminio per fare in modo appunto che la vite abbia più tenuta, un pistone della Synthesis con il corpo in teflon e la cremalliera lavorata al CNC in metallo, un motore M160 High Torque High Speed della Big Dragon e degli ingranaggi 13.1 in metallo della SHS. Questi ingranaggi verranno poi lavorati con due denti in meno in modo da ottenere una corsa più corta del pistone. Un'altra cosa da farvi vedere molto bella e interessante è la particolarità, ecco spostiamo un attimo, di questo fucile, cioè come si smonta questo fucile, è molto semplice. Togliendo questo perno riusciamo ad arrivare immediatamente, attenzione, al gearbox, voilà. Qua abbiamo il nostro pop-up con la canna e togliendo questo pezzettino qua andiamo a praticamente togliere il gruppo aria, una sorta di incastro stile ICS per intenderci. Quindi da qua possiamo già andare a sostituire gruppo aria, molla, eccetera eccetera. E poi dobbiamo andare a smontare la parte sotto della meccanica. Quindi procediamo, andiamo a smontare tutto e via. Allora abbiamo smontato tutto e abbiamo visto che ci sono diversi danni. Allora, innanzitutto ci siamo accorti che l'asta spingi pallino è rotta. Voilà. Quindi qui adesso sarà un'impresa a trovarla sperando che sia compatibile con un'asta versione 2 o 3, adesso con quelle che abbiamo in negozio, ma dopo ci guarderemo. Questa è la particolarità del gearbox dell'XCR. Vedete qui ha rotto i denti, li ha sgranati, l'impianto elettrico è fuori, è esterno, è questo blocchettino qua. Poi abbiamo, ci siamo accorti anche di una cosa molto importante, ovvero questo fucile monta un motore ad albero medio, neanche corto, albero medio. Quindi già sono difficili da trovare. Abbiamo dovuto fare un piccolo giochino e praticamente abbiamo trasformato il nostro Big Dragon ad albero lungo, il nostro M160, ad albero medio. Vedete? Questo è quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto altro che togliere tutto il suo gruppo originale, tagliare il perno a misura del motore originale che è qui dentro e mettendogli un altro pignone, un pignone nuovo perché purtroppo quello suo originale è quello fatto a D, quindi quello con il grano. Il perno tagliandolo ovviamente dopo diventava A.O. e non si poteva più montare il suo originale. Tanto meglio perché gli abbiamo montato un pistone della Falcon in acciaio che è molto molto valido. Niente, adesso proseguiamo con lo smontaggio e la pulizia soprattutto di questi pezzettini che sono veramente in condizioni pietose e tutto il resto insomma. Abbiamo sventrato tutto, non ci sono altri danni per il momento. Vedete la particolarità di questo micro gearbox veramente piccolino. Ora puliamo tutto, sistemiamo gli ingranaggi e riassembliamo tutto. Abbiamo saldato l'impianto elettrico nuovo, sgrassato completamente tutte le parti del gearbox, pulite perfettamente. Questa è l'asta e spingi pallino nuova, il pistone nuovo con, che vi dicevo prima con la testa della Ultimate e la cremaliere in metallo, gli ingranaggi della SHS 13 a 1 che abbiamo lavorato togliendo i due denti per avere un corso a corta. A questo punto riassembliamo per poi rimontare il tutto dentro le scocche e fare il test. Ecco qua ragazzi, allora abbiamo assemblato tutto, abbiamo montato il motore, messo a posto tutte le parti che devono essere messe a posto. Vi faccio sentire in anteprima un po' il ratio con una batteria da 7,4 volt, questa è una 1830C dell'Action Battery. Voilà. Allora, questo è il colpo singolo, classico. con i cavi nuovi ovviamente che gli siamo andati a mettere ora una reattività impressionante e la raffica. Beh, direi che è abbastanza valido. Ovviamente adesso andando a inserire la prolunga che passa dall'upper receiver fino all'empec anteriore, un pochino di raffica andrà a perdere, poco poco, perché ovviamente c'è dispersione nel cavo. Comunque proviamo subito a rimontare, riassembliamo anche l'upper receiver e andiamo a fare il test crono di potenza e di velocità di raffica. Direi fantastico. Allora, ora proviamo la velocità di raffica. 26,49. Fantastico. Bene ragazzi, anche per quest'oggi abbiamo terminato. Questo è il fucile che abbiamo elaborato, quindi l'XCR Robinson Arm della VFC. Abbiamo inserito ingranaggi 13.1 SHS, motore Big Dragon modificato ad albero medio, ingranaggi limati con due denti in meno per avere una corsa corta, pistone in teflon con cremaliera in denti in metallo. Abbiamo rifatto anche l'impianto elettrico con dei cavi nuovi in argento. Il fucile spara, abbiamo visto, a 0,95-0,96 con un ratio di 26-27 pallini al secondo. Spero che questo prodottino che ho realizzato vi sia piaciuto. A presto e poi forza Vale, forza Vale, 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 grande. 8 novembre, un culo così a tutti. Ciao a tutti ragazzi, a presto.